Inaugurato a Scafa il tanto atteso hub vaccinale della Val Pescara. La sede si trova nelle aree dell'ex cementificio di Italcementi, situato lungo la statale della Tirburtina Valeria e quindi di facile accesso a tutti gli utenti. Per la zona riservata alle somministrazioni vaccinali anti-covid-19 è stata installata una tenso struttura completa con illuminazione, raffreddamento, pompe di calore, pavimentazione per un'area complessiva di circa 450 metri quadrati e tutti i servizi necessari. All'interno sono state installate anche cinque linee vaccinali pronte ad accogliere i cittadini che possono ampliarsi a sei qualora fosse necessario. I comuni che saranno serviti dal nuovo centro vaccinale della Val Pescara sono 25. Questo centro vaccinale è una svolta in termini di capacità operative da parte della ASL. Non è stato semplice realizzarlo, abbiamo dovuto acquisire la disponibilità peraltro immediata da parte degli talcementi che ci ha fornito l'area ma sono stati splendidi i volontari dell'ANA, gli uomini della protezione civile, il personale comunale, i volontari in genere e tutta la macchina amministrativa e comunale ma non solo è stata a pieno regime perfettamente efficiente. Oggi c'è questo bellissimo risultato e indubbiamente è l'Italia che piace vedere, è l'Italia di gente volenterosa che si adopera per il bene della comunità. In questo periodo di pandemia indubbiamente è una bella notizia. È un'occasione anche per mettere sotto le luci dei riflettori quest'area che ha una sua vocazione industriale e commerciale e nell'occasione dimostra anche di essere un'ottima area con vocazione destinata ai servizi e questo è il servizio per eccellenza. Presenti all'apertura del Lab l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verri che ha annunciato come dalla prossima settimana inizieranno le manifestazioni di interesse per somministrare i vaccini a persone comprese di età tra 50 e 60 anni. In questa sede andremo a soddisfare tutti i comuni di un comprensorio molto esteso come quello della Val Pescara. Diamo anche un'informazione molto importante che dal 10 maggio si possono prenotare per le vaccinazioni tutti i nati, ossia meglio ancora tutti coloro che hanno l'età compresa tra i 60 e i 50 anni. Abbiamo il sistema Poste che sta rispondendo sulle nostre esigenze e quindi la possibilità è solo prevalentemente in questa fascia di età e quindi ampliamo l'area della popolazione. L'evento è stato anche l'occasione per fare il punto della situazione con il presidente Marco Marsiglio sull'andamento della pandemia nella nostra regione. La prossima sarà la terza settimana in cui Pescara è di fatto la provincia d'Italia con l'incidenza minore di contagio. Un risultato importante, lo voglio sottolineare perché qualcuno nei mesi scorsi si è messo a mettere in dubbio la capacità o a chiedersi del perché a Pescara fosse zona rossa. Come avete visto poi tutta l'Italia è finita in zona rossa quando la variante inglese ha circolato in ogni territorio che ha colpito, ha colpito altrettanto duramente di quanto sia accaduto a Pescara e con i buoni numeri, i buoni risultati che possiamo mostrare, non oggi ma ormai da settimane, dimostriamo di aver avuto questa capacità poi di fronteggiarla e di mettere in sicurezza il territorio. Ora sta a noi continuare così, da un lato con i vaccini, dall'altro con i comportamenti corretti.